Buonasera Liberani, Parma in partita, buon Parma, sino all'ingresso di Osimen, poi con il giocatore nigeriano in campo la partita è cambiata notevolmente. Non so se è coinciso principalmente con lui, è normale che è un giocatore che dopo 60 minuti ha delle qualità dove ti può creare delle difficoltà a campo aperto e c'è stato questo rimpallo che ha portato il Napoli in vantaggio. Credo che ci sono due partite, fino al gol del Napoli la squadra mi è piaciuta per come è stata in campo, per come ha gestito, per come ha lavorato, quindi pensavo anche addirittura che stessimo più indietro invece la squadra sta bene, lavora, crede in quello che fa quindi questo è quello che mi porto via molto positivo. È normale che gli errori abbiamo pagato a caro prezzo però il percorso di questa squadra è quello di arrivare a una salvezza come gli altri anni e cercando di farlo attraverso un modo di giocare un pochino diverso e cercando di essere una squadra propositiva poi il campo ci dirà le difficoltà però oggi ho visto contro una squadra forte che a differenza di noi non ha cambiato nulla dallo staff tecnico ai giocatori, ha tenuto bene il campo quindi sono mediamente positivo poi la sconfitta va analizzata perché bisogna fare di più. I mille spettatori presenti al Tardini che effetto li hanno fatto? A prescindere al Tardini credo che sia un inizio per tutti e quindi è un pensiero positivo che ho per tutti gli stadi spero come tutti che amano questo sport di poter arrivare ad una normalità il più breve tempo possibile perché poi il calcio è fatto di passione, di sentimenti e quindi credo che giocare con gli stati vuoti non sia un piacere per nessuno. Grazie a voi. Salve, una parola direi anche sulla novità del Presidente, di quello che hanno significato questi ultimi giorni che hanno preceduto questa partita, l'ambiente Parma, l'esordio magari con questa sua nuova avventura se è stata un'emozione per lei, insomma ci faccia un po' il quadro da dentro. È normale che le ultime due o tre giorni sono stati un po' atipici per chi prepara un esordio di campionato però questo fa parte del nostro mondo come quando magari a noi allenatori iniziare il campionato con il mercato non ci fa grande piacere perché comunque sono volente o nolente delle distrazioni però oggi è passato di mano la proprietà che c'era prima, la proprietà che è arrivata nuova ha mostrato entusiasmo voglia di crescere, voglia di fare qualcosa che prosegue con la vecchia proprietà e quindi lavoreranno a contatto, gli obiettivi che ci eravamo prefissati quando sono stato preso per venire al Parma sono stati mantenuti quindi di finire di costruire una squadra mantenendo mediamente la struttura dell'anno scorso e cercando di riempirla con giovani di prospettiva già pronti per giocare, giovani importanti e quindi che possono essere dei cambi ma anche dei giocatori che durante la stagione è importante per il Parma quindi questi 10 giorni lavoreremo sul campo io, la proprietà e il direttore sportivo che non ho dubbi lavoreranno fuori c'è da lavorare, la squadra lavora insieme da 10 giorni perché se pensiamo a quando sono tornati i nazionali non abbiamo fatto più di 7-8 allenamenti, per noi l'inizio non è stato facile a livello di allenamenti e quindi da martedì ripartiamo con lo stesso entusiasmo e un pizzico di arrabbiatura perché perdere non piace a nessuno e allora quindi Autore dei sovrapposti